Con la votazione del PDL sulla protezione civile, da oggi il mondo della protezione civile sarà più efficace, più efficiente e più snello. Inoltre si è chiarito in maniera molto chiara anche che tipo di evoluzione avranno i dipendenti. I dipendenti, così come recita l'articolo 2, sono a tutti gli effetti dipendenti della giunta regionale d'Abruzzo, però in questo momento andranno in distacco a lavorare presso l'agenzia regionale. Con l'occasione colgo per fare i ringraziamenti a tutte le donne e tutti gli uomini che lavorano all'interno della protezione civile e dell'ambito in generale, perché non da ultimo, per quanto riguarda il discorso dei centri vaccinali, hanno svolto anche qui un lavoro mirabile.